Salve a tutti, quest'oggi vi porto a Montepulciano in Toscana, città famosa. Per cosa? Lo sentiamo subito. Posto fra la Valdichiana e la Valdorcia, Montepulciano ha una storia ricca ed è attualmente famoso per il suo vino nobile di Montepulciano. La leggenda dice che la città fu fondata da Porsenna, il famoso re etrusco. Durante l'epoca romana la città continuò a prosperare grazie alla sua posizione strategica fra la Valdichiana e la Valdorcia. Nel Medioevo Montepulciano fu spesso contesa fra Siena e Firenze a causa della sua posizione strategica. Nel XIV secolo la città passò definitivamente sotto il controllo di Firenze, diventando un'importante roccaforte della Repubblica Fiorentina. Durante il Rinascimento Montepulciano visse un periodo di grande splendore culturale e architettonico. Furono costruiti molti dei suoi edifici più significativi come il Palazzo Comunale e la Chiesa di San Biagio. Nel XVIII secolo, con la fine della dominazione fiorentina, Montepulciano entrò a far parte del Gran Ducato di Toscana sotto i Lorena. Montepulciano è una meta turistica popolare, conosciuta per i suoi panorami mozzafiato, la cultura enogastronomica e le sue tradizioni storiche. Montepulciano è una meta turistica popolare, conosciuta per i suoi panorami mozza. Montepulciano è una meta turistica popolare, conosciuta per i suoi panorami mozza.